Buongiorno e benvenuti alla scuola di educazione di Pombia. La nostra scuola è composta da quattro sezioni, pertanto siamo otti insegnanti, più una di potenziamento e un insegnante di educazione religiosa. Io sono l'insegnante Sara, io sono l'insegnante Olga, buongiorno io sono l'insegnante Rosaria, buongiorno io sono Braterina, io sono l'insegnante Sonia Carrea, io sono l'insegnante di potenziamento Laura, io sono l'insegnante Mariana, ciao io sono Melania, ciao io sono Patrizia, ciao io sono Andrea, inoltre nel PS abbiamo quattro collaboratrici, ciao io sono Anita, ciao io sono Milania, io sono Antonella, ciao, ciao io sono Carla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.